L'impossibile non è un fatto, è solo un'opinione. Come quando dicevano a mio padre che battere Sunilistone era impossibile. È troppo forte, troppo cattivo. O quando dicevano, lascia perdere Ali, non combattere in Zaire. Lui è troppo in forma, troppo esperto, si distruggerà. Così come quando mio padre guarda negli occhi l'impossibile e lo sconfigge, giorno dopo giorno. Come pensi che reagisca io? Quando mi dicono che la box non è uno sport da donne. Sì, picchiate bambini, picchiate duro.